a Giorgio Meloni vada comunque, al netto che uno sia più o meno d'accordo con quello che disse Giorgio Meloni, penso vada riconosciuta lei comunque un grandissimo lavoro negli ultimi tre o quattro anni di crescita costante, importante, attenzione, di crescita strutturale, perché Fratelli d'Italia non è cresciuto al 10% in tre mesi, è cresciuto negli anni, questo significa politicamente che c'è una crescita strutturale. Dopodiché, se c'è un po' di pepe anche, se c'è all'interno di una coalizione di centro-destra, un minimo di competizione, io la vedo una cosa importante, la vedo una cosa assolutamente giusta, tutti assieme propedeutici al fatto che evidentemente il centro-destra, in primis Lega e Fratelli d'Italia No, ma infatti io sono sicura che Salvini alla sera quando va a dormire dice che è bello che c'è un po' di competizione con la Meloni, tutte le sere, sempre lo penso.